Giovanni Melillo, 61 anni, di Foggia, capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della giustizia e attualmente capo della procura di Napoli, è il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Lo ha nominato a maggioranza con 13 voti il plenum del CSM. Competeva per il ruolo anche il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Non c'è stato bisogno di ballottaggio, come si paventava alla vigilia, per arrivare alla nomina. Melillo ha raggiunto dalla prima votazione i 13 voti necessari, 7 invece i voti andati al capo della procura di Catanzaro Nicola Gratteri e 5 quelli a favore di Giovanni Russo, aggiunto e sino ad oggi reggente della procura nazionale antimafia. Anche i vertici della Cassazione e il primo presidente Pietro Curzio e il procuratore generale Giovanni Salvi hanno sostenuto la nomina di Giovanni Melillo a procuratore nazionale, nomina proposta da Area, il gruppo delle toghe progressiste in cui milita lo stesso capo della procura di Napoli. Per lui hanno votato anche i tre consiglieri di Unicost e i laici Michele Carabona di Forza Italia e Alberto Maria Benedetti e Filippo Donati del Movimento 5 Stelle. A favore di Gratteri hanno votato i togati indipendenti Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo e i tre componenti di autonomia e indipendenza, i laici Stefano Cavanna e Emanuele Basile della Lega e Fulvio Gigliotti del Movimento 5 Stelle, relatore della proposta a favore del capo della procura di Catanzaro. Per Russo hanno votato invece l'intero gruppo di magistratura indipendente e il laico di Forza Italia Alessio Lanzi.